Laura Tagliaferri, Vualdo e altre tre persone hanno pubblicato qualcosa in potere al popolo, Laura Tagliaferri su Facebook. Laura Tagliaferri 16 luglio 2016 alle ore 23.17 ora sappiamo che la Finlandia è nei guai. Una serie di forti shock dal lato dell'offerta ha devastato l'economia. Quando Nokia è crollata sulla scia della crisi finanziaria del 2007 a 2008, creando un buco enorme nel PIL del paese, il governo ha risposto con un sostanziale sostegno fiscale. Questo ha rovinato la sua già virtuosa posizione fiscale. In un anno è passata da un surplus del 6% a un deficit del 4% e anche se il suo deficit da allora è leggermente migliorato, è ancora al di fuori dei parametri di Maastricht. A causa di questo, l'attuale governo, sotto la pressione degli eurocrati folli, sta attuando l'austerità fiscale, per portare il deficit al di sotto del 3% del PIL. Per un'economia che ha subito una grave diminuzione della sua capacità produttiva, questo è disastroso, scrive Francesco Pola, in un post ripreso su luogo comune. Che svela una verità drammatica, in Scandinavia si salva solo chi sta lontano dall'euro, come la Svezia. E meglio ancora la Norvegia, che non è neppure nell'UE. In Finlandia, le misure di austerità non saranno in grado né di ridurre il deficit né di far ripartire l'economia, scrive Coppola. Al contrario, provocheranno un'ulteriore riduzione dell'economia e, di conseguenza è una questione di semplice aritmetica. Finlandia uccisa dall'euro provocheranno un aumento del deficit in percentuale sul PIL. La Finlandia è stata in recessione per quasi tutti gli ultimi quattro anni. Quello di cui ha bisogno è una politica fiscale espansiva, non di salassi. L'austerità. È una strategia del tutto controproducente per un'economia che ha avuto danni sul fronte dell'offerta a causa di shock esogeni. L'unica cosa che sta impedendo all'economia finlandese di crollare è la politica monetaria espansiva della BCE. Tassi negativi e quantitative e asing, possono essere uno stimolo debole, ma sono meglio di niente. Ma la verità è che la Finlandia, fatta passare per un paese prospero, è molto più simile agli stati deboli del sud Europa. E se la Finlandia sta male, neppure la Danimarca si sente molto bene. La Danimarca ha subito una profonda recessione dopo la crisi finanziaria toccando il fondo nel secondo trimestre del 2010. Ma, a differenza della Svezia, non ha recuperato il modello dell'andamento del suo pile molto più simile a quello della Finlandia, anche se non ha avuto gli shock sull'offerta subiti da Helsinki. Perché è rimasta stagnante per gran parte degli ultimi sette anni? Molte spiegazioni tendono a incolpare il welfare danese, troppo generoso e costoso, una tassazione elevata soffocherebbe le imprese, mentre lo stato sociale scoraggerebbe il lavoro produttivo. Tagliare il welfare, quindi? Ma no, anche la Svezia ha un generoso stato sociale e una tassazione relativamente elevata. E anche la Norvegia. E in effetti anche la Finlandia. Tutti gli stati nordici sono così. E tutti, negli ultimi anni, hanno fatto seri sforzi per migliorare l'efficienza dei loro Copenhagen, maternità, sistemi di welfare e ridurne il costo. La Danimarca è addirittura in testa alla classifica dell'Ox tra i paesi scandinavi per lo sforzo nell'azione riformatrice. Eppure i suoi risultati economici differiscono enormemente da quelli di Svezia e Norvegia. La vera ragione di questa profonda differenza non è difficile da trovare, scrive Francesco Pola, la Finlandia, quella che tra questi paesi ha le peggiori prestazioni, è un membro dell'euro. Questo non solo le impedisce di gestire la propria politica monetaria, compresa la possibilità di svalutare per proteggere la sua economia dagli shock esogeni ma anche incatena la sua politica fiscale alle regole del patto di stabilità e crescita. La Finlandia è soggetta alla procedura prevista in caso di deficit eccessivo e, in quanto membro dell'euro, questo significa che deve conformarsi alle azioni richieste o affrontare le sanzioni, anche se le azioni previste sono direttamente nocive per la sua economia. A parte la Finlandia, nessuno degli altri paesi scandinavi ha l'euro, ma la Danimarca è un membro del meccanismo di cambio ERM II, che è un precursore dell'euro. È obbligata a mantenere il valore della propria moneta entro fasce stabilite rispetto al valore all'euro. Anche la politica monetaria danese è quindi determinata in larga misura non dalle condizioni locali, ma dalle decisioni della BCE siano o meno appropriate per l'economia danese. La Danimarca ha anche accettato di essere vincolata dalla forma più rigorosa del patto di stabilità e crescita, il fiscal compact, il che significa che è soggetta alle stesse regole fiscali e alle stesse sanzioni di un membro della zona euro. Al contrario, la Svezia non è un membro dell'ERM II. Avrebbe dovuto aderire all'euro, a un certo punto, ma, misteriosamente, persiste nel non soddisfare i criteri di convergenza. La corona svedese fluttua rispetto alle valute di tutto il mondo, tra cui l'euro, consentendo alla Svezia un controllo molto maggiore della propria politica monetaria rispetto alla Danimarca o alla Finlandia. Sul versante fiscale, anche se la Svezia ha ratificato il fiscal compact, ha rifiutato di petrolio norvegese lasciarsi vincolare dalle disposizioni previste finché rimane al di fuori dell'euro. Quindi, anche se dovrebbe mantenersi entro i parametri di Maastricht non incorre in sanzioni se non lo fa. Quanto alla Norvegia, notoriamente non è neppure un membro dell'UE. Dal momento che il paese è un esportatore di petrolio, la corona norvegese è una «petrovaluta». La Norvegia ha usato efficacemente il suo fondo sovrano per assorbire le entrate derivanti dalla produzione di petrolio e impedire che la sua moneta si apprezzasse eccessivamente, spiega Coppola. Il recente crollo del prezzo del petrolio l'ha colpita duramente? Certo, la crescita del PIL di gennaio è stata negativa. Ma attualmente la Norvegia sta attingendo al suo fondo sovrano per mantenere i programmi di bilancio. Le difficoltà momentanee sono dovute alla congiuntura globale, non ha legami con un'eurozona depressa e ossessionata dall'austerità. Attenzione! La capacità di gestire la propria politica monetaria e di bilancio è preziosa. Le banche centrali dell'eurozona, bloccate in una politica monetaria uguale per tutti, hanno scarsa capacità di proteggere le loro economie dagli shock locali. Con la centralizzazione della vigilanza bancaria hanno anche in gran parte perso il controllo delle politiche di vigilanza a livello sistemico. Le autorità fiscali dell'eurozona, a loro volta hanno poca autonomia se un paese è entrato nella procedura per disavanzo eccessivo, mentre per quelli che ne sono rimasti fuori. Evitare la supervisione di Bruxelles può diventare la preoccupazione principale. Per i paesi della zona euro il vero obiettivo di politica monetaria non è l'inflazione, ma il rapporto deficit-pill. La BCE sta combattendo una battaglia persa per alzare l'inflazione, contro la determinazione della burocrazia di Bruxelles nel forzare 19 autorità fiscali a deprimere la domanda in nome dei conti in regola. E così il disastro economico della Finlandia è, almeno in parte, una conseguenza della sua appartenenza all'euro. La Danimarca, invece, soffre per la perdita dell'autonomia monetaria a causa della sua appartenenza all'euro secondo e della perdita dell'autonomia di bilancio perché ha scelto di essere vincolata al fiscal compact. Al contrario, la Svezia, ha il controllo sia della politica monetaria sia di bilancio, mentre la Norvegia, non solo ha il controllo della sua politica monetaria e fiscale, ma è ulteriormente ammortizzata dal suo ampio fondo sovrano. Altro che iper-welfare. La grande divergenza scandinava è principalmente causata dall'euro.